Sì, allora tre. Cinque del granio di papilla, la nove è nata, ed è la buona mutazione. La buona mutazione cos'è? Per noi bambini, prima di legazione è questa cosa qui. La buona mutazione non è solo un paroloso, ma di sederita l'opera è la preghiera e la voglia. A noi è sempre piaciuto chi ci dona il suo saluto, il tuo giorno, la mattina e la sera ci sa dire buona sera. Chi fa entrare il primo naziano, lo aiuta a tutti i malattori. Chi sa chiedere scusa se commette perdone, è davvero un gran signore. Chi ha il supermercato non fa il problema, ma il suo punto lo sa se giocare. Per noi bambini, prima di legazione, è questa cosa qui. parla, è il sistema. per noi, la prima di legazione, la prima di legazione, le preghiera, la prima di legazione, è la prima di legazione, la prima di legazione, Grazie.